Monsignor Testore, è un momento importante questa giornata, 19 di gennaio, non la dimenticherà facilmente. È diventato Vescovo di Acqui. Con che spirito questo momento? Evidentemente è sempre un momento un po' difficile perché c'è un passaggio fondamentale della propria vita e quindi devo anche io abituarmi un attimo alla cosa perché ovviamente la so anch'io da pochissimi giorni. Il mio desiderio è quello appunto di servire la Chiesa come è ovvio, come da prete ho sempre cercato di fare. Certo la responsabilità di una Chiesa locale è una responsabilità molto impegnativa e quindi cerco di mettermi a servizio di questa responsabilità soprattutto con la convinzione che il dono dello spirito è quello che permette sempre di cogliere quali sono i passaggi da fare, qual è il cammino della Chiesa, come quindi è possibile mettersi sempre in ascolto della parola di Dio per capire come vivere bene il tempo che ci è dato. Io avrò appunto da vivere questo tempo specifico a servizio di quella Chiesa e quindi devo capire che cosa questo momento storico chiede a quella comunità e quali cammini dovrà fare. Lei è figlio in qualche modo di questa Chiesa anche se non è nato in Diocesi di Milano, è stato segretario del Cardinale Martini, ha ricoperto incarichi di grande responsabilità nel governo della Diocesi. Ecco, se dovesse dire un pensiero naturalmente per la Chiesa Ambrosiana è qualcosa che le è rimasto e le rimane nel cuore che porterà per sempre con sé. Tantissime cose mi rimangono nel cuore della Chiesa Ambrosiana perché appunto io, anche se come accennava prima l'arcivescopo, sono nato fuori dalla Diocesi di Milano, ad Asti e ho vissuto anche qualche anno della mia infanzia proprio nella Diocesi di Acqui a Ovada e ho fatto lì fino alla seconda elementare, però poi tutto il resto della mia vita, dalla terza elementare in poi, l'ho vissuto qui. A Milano è una Diocesi che dà davvero molto ai suoi fedeli perché appunto c'è tutta questa tradizione anche liturgica, una tradizione poi educativa, quella degli oratori, che è quella che ha formato anche me. la Diocesi di Milano ovviamente diventa proprio anche un po' un punto di riferimento per qualunque prospettiva di tipo pastorale perché certo vorrei anche se è possibile imitare qualcosa di quello che la Diocesi di Milano vive e fa. Ad molto sannos. Grazie molte, grazie.